Acum lucramo con mare attenzia per l'opposizione e la serenità ascoltata esclusivamente per imitare. Non c'è problema, non c'è pensiero, ok? Simplice. Questa è aria. Suono gira. Acum ha un vorbito del suono di petto, suono misto, suono di testa. Non esiste, noi abbiamo omologato tutto, tutto è la fede, ok? Ok. E ok, come fa qui questa? In su, come fa qui? Da. Pressione. Pressione è tocca. Da che tu fai addominali, da che tu fai ascià. Guarda, scusa. Ascià, no? Ok? A questa è addominali. È semplice. Da. Ok. Se fai ascià. Scusa. Perfetto. È difficoltà. È simpile. Deja accelare, ok? Postino. Vai. Vai. Vim. Aspira. Corretto. Apnea non è corretta. Da che tu hai fatto l'inspirazione, non sei bloccata. Quando tu bloccata, non puoi l'inspirazione, asta se non vuole apnea. Apnea non è corretta. Pentru che con apnea tu perdi aria. Ok? Ok? La asta non merge. No? Dati tu. E' semplice. E' semplice la fel. E' che io faccio? Io faccio? Io lo faccio. No. Io parto immediato. Ok? Ok? Some people wind up, but I'm not. Come to the top. For I got you, baby. Ok? Y' este fraseggio. Fraseggio. Non ho nevoie, per fraseggio. Non ho nevoie di apnea. Non ho nevoie di apnea. Ok? Ultimo. Prego? Ok. A se giro devo andare. Tira. Ok? Vai. Ok, c'è un foculto. Fa. A se nota. Fa octava. E un foculto. Scarabeggioso. Vai. Corretto. Vai. Ok. A se è semplice. Non merge pensare. Ah, se faccia scià, se faccia scià. Este naturale. Pentru che a sta suono este empatico. Suono empatico. Merge esclusivo. Farà nicio problema. Ok? Ok?